A Gubbio, nel mese dello sport, si è vissuta anche una quarta edizione caratterizzata da un elevato numero di partecipanti. Sono stati oltre 150, infatti, gli arrampicatori che nel weekend appena trascorso hanno animato le vie del quartiere di San Martino per dar luce a Monkey Street Boulder, evento sportivo organizzato dal quartiere di San Martino in collaborazione con l'associazione Leucos, il comune di Gubbio e il CAI. Il Monkey è una pratica sportiva che ha presso piede in tutto il mondo e che, praticata con un mix di concentrazione e forza muscolare, trova nelle mura della città di Pietra un terreno perfetto per la scalata. A dimostrare che l'iniziativa Gubbina è ormai nota nel tessuto nazionale i partecipanti, provenienti in età varia da tutta Italia, molti laziali, marchigiani e anche numerosi dal nord Italia, con i più lontani arrivati da Belluno, in Veneto. Un evento, quindi, favorevole anche per il turismo, vista la permanenza del pubblico anche per il giorno successivo, in cui, presso i locali del quartiere, è stato organizzato l'incontro con Stefano Ghisolfi, uno dei più grandi arrampicatori del mondo, che sarà presente anche alle prossime Olimpiadi. La gara di Gubbio, invece, ha visto sfidarsi tutte le fasce di età, a suon di 55 tracciati, di 5 difficoltà diverse. Ogni partecipante poteva scegliere il percorso a lui più consono, considerando che ogni tracciato valeva mille punti, da dividere per ottenere il proprio punteggio con il numero di concorrenti presenti nello stesso tratto. Nessun giudice, ma tutto autocertificato. Agli sfidanti, infatti, dopo aver consegnato una piantina con i percorsi, si chiedeva di apportare una X su quelli portati a termine. Se baravano tanto ci si accorgeva alla fine, nel momento della sfida per la conquista del podio finale, avvenuta presso il fiume del Camignano, ha detto l'organizzatore Marco Sbianchi, dove era stata posizionata una struttura da parete artificiale, compresa il Resina, che ha visto la vittoria nella categoria maschile di un perugino, per proseguire fino al terzo posto anche nella categoria femminile, un successo di cui vanno molto fieri gli oltre 25 ragazzi Ogubini facendo parte del gruppo Fattore 2, sotto gruppo dell'Associazione CAI, che si allenano presso la palestra di Moccaiana, aperta a tre ore al giorno per tre volte a settimana, per permettere agli appassionati di esercitarsi autonomamente in modo da poter partecipare alle varie gare nazionali, presentandosi nei circuiti amatoriali. La speranza è ora quella di riuscire a spostarsi nella palestra di San Pietro, più comoda da raggiungere nel periodo invernale per i ragazzi non ancora otomuniti e meno fatiscente della sede attuale.